Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Gela. Oggi nell'isola ecologica di Contrada Scavone si sono dati appuntamento il sindaco, il suo vice ed il segretario della CGL. Ignazio Giudice ha chiesto all'amministrazione di non far elevare multe a quei residenti ancora non in possesso del kit. I amministratori hanno ribadito che differenziare è giusto al fine di mantenere il decoro urbano della città. Si sono dati appuntamento in via Rio de Janeiro, nel quartiere Scavone a Gela, nei pressi dell'isola ecologica. Loro sono il sindaco di Gela, Domenico Messinese, il suo vice Simone Siciliano e il segretario della CGL Ignazio Giudice. Proprio l'esponente sindacale ieri aveva bacchettato l'amministrazione sottolineando che nella normalità serve un po' di logica che chi amministra dovrebbe possedere e quindi usare. Il giudice aveva riferito che la raccolta differenziata è giusto farla ad operarsi per migliorarla, sanzionare chi non la fa, ma aveva anche riferito che il kit, il grande assente, questa star che dovrebbe arrivare ma non arriva, non è normale non consegnarlo prima della rimodulazione. Ieri ho incontrato personalmente il proprietario della Tecra e anche il vice sindaco siciliano che mi hanno promesso e quindi l'hanno promesso alla città e ai cittadini che la differenziata diventerà un progetto culturale a quale tutti dobbiamo credere, ma i cittadini devono essere messi in condizione di differenziare avendo il kit. Non può il Comune addirittura elevare le sanzioni a 125 euro a chi non fa la differenziata senza dotare tutte le famiglie già lesi di kit. E siccome i kit indagamente arriveranno tra settembre e ottobre, la Cigella ha chiesto che in questo momento nessuna multa venga levata ai cittadini. Sarebbe veramente una ingoerenza istituzionale che credo nessuno con un po' di buon senso e umiltà si può permettere. Noi crediamo che il cambiamento è possibile e noi crediamo anche che la maggioranza dei cittadini è pronto a differenziare. Quella minoranza che vuole invece vivere l'ingiviltà va rieducata, va convinta che l'ambiente è di tutti e quindi va solo guardato. Stiamo giustamente verificando come sta andando la distribuzione sia dei contenitori per il vetro, che è uno strumento necessario proprio per consentire la sicurezza come viene conferito questo materiale, ma anche la distribuzione dei sacchetti e dei volantini che spiegano come poter fare la raccolta differenziata. L'informazione credo sia la cosa più importante, non vogliamo fare gli sbagli che hanno fatto precedentemente dove dall'oggi al domani si cambia tutto. In realtà noi abbiamo messo già notate che era l'8 agosto, l'avevamo annunciato già da due settimane, ci sono queste altre settimane fino a dopo a ferragosto per cominciare alle persone ad avere le risposte per i propri dubbi. Sono sicuro che tutti insieme riusciremo a migliorare il servizio e dare più decoro alla città. E sull'argomento abbiamo raccolto anche la testimonianza del vice sindaco Simone Siciliano. Sentiamo. Abbiamo voluto dare un segnale forte con la presenza di un'isola ecologica, di un presidio informativo per informare la gente, formarla a differenziare meglio. L'isola ecologica appunto per dare un servizio evitando che i cittadini di passaggio usino queste aree come discariche, facendo un torto ai residenti di queste zone. Ma oggi un'attenzione particolare in più. Abbiamo appena ultimato la consegna dei kit per differenziare ai cittadini di Contrada Settefarini. Oggi si inizierà dal centro storico e contemporaneamente e personalmente consegneremo assieme ai dipendenti della Tecra i kit dei sacchetti al porta a porta a Contrada Scavone e al quartiere Santa Lucia. Lo faremo in presenza di colui che si è definito cittadino tra i cittadini, il segretario locale della CGL, l'amico Ignazzo Giudice, che abbiamo voluto invitare perché particolarmente ipercritico nei confronti dell'amministrazione e di questo nuovo calendario che serve a facilitare il cittadino nel differenziare, proprio per dargli dimostrazione di come la Tecra e l'amministrazione si stanno impegnando per fare in modo che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di poter operare. Già ieri era stato invitato presso il centro comunale di raccolta, gli è stato mostrato tutto il materiale che è arrivato bello imballato, quindi il kit con i sacchetti, il secchiello per il vetro, non perché lui sia presente in qualità ispettiva, ma semplicemente appunto perché è ipercritico nei confronti di questo radicale cambiamento nel sistema di gestione per dare dimostrazione a tutti i cittadini che l'amministrazione si sta impegnando, non vuole vessare nessuno, vuole mettere tutti in condizione di differenziare e lo vuole fare al meglio. Silvio Lisciandra, presidente della associazione Corsa per la vita di Gela, invita ad utilizzare lo street control per vigilare sul regolare conferimento della raccolta differenziata. Con lo street control in vigore da alcuni mesi, dice Lisciandra, c'è da dire che la giunta messinese ha vinto alla lotteria che con un sistema di repressione e non di prevenzione sulla circolazione veicolare nella città sta rimpinguando in un modo forse nato le casse comunali da multe a raffica recapitate al domicilio di ignari cittadini da parte di vigili urbani in divisa e non soltanto con filmati e foto. Ma questo sindaco, dice Lisciandra, pensa veramente di entrare nelle grazie dell'elettorato gelese con queste uscite infelici e insensate riducendo all'estrema povertà la popolazione gelese? E oggi, dalle 22 alle 5 di domani, il calendario della raccolta differenziata prevede di depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Bisogna conferire bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchieri e brocche solo se in vetro e non in cristallo, vetri vari anche se rotti e contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Cambiamo argomento e vi riferiamo di un mortale infortunio sul lavoro. Un uomo di 42 anni è precipitato da un palo mentre stava lavorando in contrada Anghillà nei pressi della statale 640. Vediamo. E' precipitato da un palo della luce in contrada Anghillà lungo il raccordo a 19 Palermo-Catania mentre stava eseguendo un intervento per conto di una ditta a servizio dell'Enel. Un volo fatale per un operaio di 42 anni di Santa Caterina, Giuseppe Saporito. Vano l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo, infatti, sarebbe morto sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti e della divisione anticrimine, guidati dal vicequestore Michele Emma. A quest'ultimi è stata affidata l'inchiesta. In queste ore, gli investigatori stanno interrogando i colleghi dell'operaio assieme agli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASP di Caltanissetta. Bisognerà, infatti, capire se l'uomo è precipitato per una scarica elettrica oppure per un malore. Dubbi che saranno chiariti anche dal medico legale che ha eseguito l'ispezione cadaverica dell'operaio. Intanto la procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta sulla morte di Giuseppe Saporito. Torniamo a Gela. Il gruppo di lavoro sul porto rifugio va rafforzato e potenziato con altre figure professionali e non eliminato affinché i progetti previsti sul sito vengano realizzati in modo totalitario e vengano svolti in modo corretto e funzionale ed in particolare si deve vigilare affinché i finanziamenti che arriveranno dalla regione siciliana siano utilizzati in modo valido e proficuo. Lo dice il capogruppo del megafono Sara Bonura in merito alla querella in Scatasi dopo la richiesta avanzata dalla commissione urbanistica secondo la quale il gruppo di lavoro sul porto deve essere cancellato. Non deve essere vanificato, scrive Sara Bonura. Tutto il lavoro fatto fino ad oggi il gruppo di lavoro va sostenuto in modo attivo e a tempo indeterminato perché non incide sulle casse comunali poiché è a costo zero e soprattutto perché ha svolto un lavoro utile. Noi siamo con i pescatori in primis e con tutti i lavoratori che con la realizzazione del porto rifugio che guardi allo sviluppo fronte mare della nostra città potranno avere una boccata d'ossigeno. Le loro necessità ed esigenze sono le nostre. Pertanto chiude Sara Bonura invito ad astenerci da polemiche sterili e a unirci tutti per realizzare il nostro futuro. E intanto continua il botta risposta fra la commissione urbanistica, lavori pubblici e programmazione territoriale presieduta da Cristian Maluzzo ed il gruppo di lavoro per il porto. La commissione chiede tutti i documenti relativi ai lavori del porto sostenendo che la questione è di competenza della stessa commissione e che il gruppo di lavoro non ha motivo di esistere. I componenti del gruppo che hanno lavorato a corso zero non intendono invece fare un passo indietro e dopo aver lavorato per ottenere un finanziamento da 5 milioni e 800 mila euro che rientra fra i fondi di compensazione dell'Eni intendono andare avanti fino a quando Gela non avrà un porto fruibile. Nativa di Caltagirone, consagrata da quasi 30 anni lascerà subito dopo Ferragosto Gela per trasferirsi a Catania. Lei è Suorenza Boscarello, direttrice dell'Istituto Suor Teresa Valsè di Macchitella. È già stata nelle comunità di Cesaro, Roma, Cireale, Biancavilla e Modica. Adesso una nuova esperienza dopo 8 anni vissuti intensamente tra noi. È stata insegnante nella scuola primaria e responsabile della catechesi in preparazione ai sacramenti dell'eucaristia e della confermazione dell'oratorio e della polisportiva. Posso dire di aver dato tutto quello che mi è stato possibile senza ritirare niente di me, senza pensare a un attimo di riposo o di qualcosa che naturalmente potesse pensare a me stessa. Io, poiché credo molto nella mia scelta, nel dono di me, ho cercato di far tesoro di tutti i momenti, di tutte le luci che il Signore mi ha dato, perché il nostro servizio, la nostra presenza potesse essere luce, potesse essere forza, potesse essere indicazione per i giovani e le famiglie. Il posto di Isurenza sarà preso da Suor Concetta Cannone, sociologa, già Presidente regionale del Centro di Formazione Professionale e dell'Obbligo di Istruzione per la Regione Sicilia. Si tratta di una donna semplice, determinata, coerente e disponibile al dialogo e al confronto. Facendo un passo indietro, dunque andando indietro di 8 anni, cosa è cambiato da allora ad oggi? Sono arrivata, ecco, che ero già stata a Gela e quindi ho notato subito che il territorio gelese non era quello di 20 anni fa quando l'avevo lasciato io. E allora questo mi ha spinto a far sì che questa fosse una casa aperta, che tutti coloro che entrassero, che avessero desiderio, insomma, bisogno di una parola, di un'attenzione, di un affetto, ecco, questo non l'ho fatto mancare. E come dicevo prima, ecco, il desiderio, l'intenzione, l'impegno, ecco, perché ci fosse una crescita totale. Credo che i risultati, di risultati possiamo parlare, perché non parliamo di questo, non penso assolutamente a questo, però si vedrà dopo. Un quadro si vede sempre da lontano, così io vedrò in me. Ecco, voi lo vedrete nel territorio, io vedrò in me, ecco, la bellezza, la bontà di questa esperienza un poco a distanza. E cosa lascia lei a Gela? Un pezzo di cuore, perché noi sappiamo che la nostra è una parentesi che si apre e si chiude, così ha voluto Don Bosco, così è scritto non solo nelle nostre Costituzioni, ma anche nel diritto canonico. E per lavorare, io dico bene nel senso che ho messo tutto a me stessa, in questo senso non ho la pretesa di dire che ho fatto bene, no. Per lavorare, ecco, ho messo tutto a me stessa e quindi bisogna naturalmente anche affettivamente, ecco, non legarsi, ma ecco, lavorare con affetto, lavorare anche con il cuore, non solo con la mente. E questo io l'ho fatto, per cui, certo, lascio forse un pezzo di cuore, mi porto un pezzo di cuore, ma questa è la bellezza della vita. Proseguono gli appuntamenti con l'estate gelese. Oggi alle 21, nello spazio antistante, la parrocchia Sardocco, la compagnia teatrale L'Antidoto proporrà lo spettacolo Attenti a quei due, alla stessa ora a Manfria, nella Casa Francescana, Sant'Antonio da Padova, festa di Santa Chiara d'Assisi e in Piazza Roma, Ghelas Music Fest, con un tributo ai Genesis da parte dell'associazione Soundown. A Macchitella, invece, nell'ambito della rassegna Blues, Jets e Other Summer 2016, promossa da Salvatore Fabio Vasta col patrocinio del Comune, è prevista la partecipazione del gruppo musicale Cargo 7, la direzione artistica, e di Arianna Tremito. Ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale, è una bella notizia che interessa la famiglia di un nostro affezionato cliente pubblicitario. Sono convolati a nozze, lo vediamo nelle foto, Niccolò Smecca e Nensi Cirignotta hanno detto sì nella chiesa Sacro Cuore, dinanzi al parroco Don Angelo D'Amico. Alle famiglie Smecca e Cirignotta le congratulazioni da parte di tutti noi. Ci fermiamo, linea allargia per la pubblicità. Seconda parte del telegiornale, concerto lirico del duo Giuliana Consiglio, soprano e Fabrizio Aquilina, pianoforte, sabato 13 agosto alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine, nell'ambito dell'iniziativa l'estate gelese con la musica colta, promossa dalla associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione con il Comune. La pagina dello sport, calcio amichevole, oggi pomeriggio alle 17, al Vincenzo Presti, Tragella e Acragas, l'ingresso allo stadio è completamente gratuito, una testa importante per la squadra allenata da Totò Brucculeri contro una formazione di categoria superiore. Intanto oggi vi facciamo conoscere il nuovo difensore biancazzurro, Gerardo Strumbo. Strumbo, quando ti ha chiamato il direttore per indossare la maglia della Gioracalcio, non ci ha pensato due volte perché si tratta di una piazza importante, di una maglia gloriosa. Sì, verso la fine di giugno ho ricevuto la chiamata dal direttore Martello che già conoscevo. Quando ho saputo che aveva firmato per il Geracalcio, è vero, non ci ho pensato più di due volte. Avevo tante richieste quest'anno, però siccome sono uno che sono stato 12 anni qua in Sicilia, dopo cinque anni fa piacere ritornare, però fa piacere ritornare in una piazza di calcio. Se no, ti ripeto, avevo altre richieste. Per venire qua a Ger vuol dire che sono venuto qua non per salvarmi, ma per far bene. Fare le comparsa in Serie D non serve a nulla. Voi puntate a qualcosa di importante? Ma sì, io per questo, se ho spasato questo progetto è perché non sono venuto qua, ti ripeto, per salvarmi. Sono venuto in una piazza importante qua in Sicilia dove per 15 anni ha fatto la Serie C. Spero di far bene perché il Gela come città merita da tanto. Stiamo facendo un bel gruppo e speriamo già di far bene dall'inizio. Nel momento che nell'ultima partita del Gela col Custo Palermo che poi ha decretato la promozione in Serie D allo Stato di Vincenzo Presti c'erano 5.000-6.000 persone, che è il record per un campionato di eccellenza. Ma sì, ma si sa, le piazze di calcio sono belle soprattutto perché quando si gioca in casa ci saranno quelle 4-5.000 persone allo stadio. Quest'anno ho giocato nel Gelo Neac dove per dirti contro il Taranto c'erano 15.000 persone, Nardo Francavilla c'erano 9.000. Ho visto un paio di video su internet riguardo il Gela Calcio. L'anno scorso sono pure arrivate nella vittoria campionato a 4-5.000 persone. Questo ti fa capire che Gela è una città che merita tanto, la gente la domenica valla viene allo stadio e spero che ne viene ancora molti di più quest'anno. Il Gela è stato inserito nel giro I del campionato di Serie D. I Biancazzurri se la vedranno con Aversa Normanna, Due Torri, Gladiator, Palmese, Rocella, Sersale, Castrovillari, Frattese, Gragnano, Pomigliano, San Cataldese, Sicura Leonzio, Cavese, Igea Virtus, Rende, Sarnese e Turris. In occasione della nuova stagione sportiva, l'associazione direttantistica San Francesco di Gela organizza uno stage per il settore giovanile. Appuntamento previsto per domani alle 17 presso il campetto esterno del Palacossiga. Sono messi a partecipare i ragazzi appartenenti alle categorie giovanissimi calcio 5, anni di nascita 2002 e 2003, allievi calcio 5, anni di nascita 2000 e 2001 e i uniones calcio 5, anni di nascita 1998 e 1999. I ragazzi dovranno presentarsi muniti di scherpette per informazioni, chiamare i numeri 347-8137-649, lo ripetiamo 347-8137-649, si tratta del recapito telefonico dell'allenatore Fabrizio Buscemi ed ancora 348-78-53645, il numero di Rosario Turco, o 345-5910-040, il numero telefonico di Alex Yurici. Si chiama Summer Asia Export, l'iniziativa che si terrà dall'unedì 22 agosto a sabato 27 a Gela, 5 giorni intensi che vedranno la partecipazione di numerosi sportivi. Sono nuove le associazioni che hanno aderito, tra cui la Gymnastic Club di Walter Miciche e la Decathlon. Si punterà alla valorizzazione dello sport a 360 gradi. È una grande esposizione sportiva, dove le associazioni sportive direttantistiche mostraranno se stesse, le proprie attività e gli atleti plurimedagliati che hanno meritamente fatto grandi successi all'interno del 2016. Tant'è vero che all'interno di questa manifestazione andremo proprio a consegnare loro degli attestati anche di merito. Questa manifestazione è anche un messaggio molto forte che vogliamo dare alla città di Gela e non solo, a tutto il territorio siciliano, un messaggio di unione. Tant'è vero che le associazioni di propria spontanea volontà si sono unite tra di loro, nonostante siano categorie diverse tra di loro, tipologie diverse, ma si sono unite per un unico obiettivo, ovvero quello che è il motto che abbiamo utilizzato è uniti per lo sport, perché tramite lo sport possiamo dare i giusti messaggi ai nostri giovani e soprattutto a questi giovani che potranno diventare degli adulti sani. Ringraziamo questa bellissima iniziativa dove vedrà una settimana di sport, dove tutte le associazioni sportive gelesi e non solo si uniranno. Questo dà la possibilità ai bagnanti e a tutti i presenti di poter provare le varie specialità sportive, quindi un'ottima occasione per avvicinarsi al proprio sport. Ci siamo equalizzati per poter portare lo sport vero nei lidi, in pubblico, in modo tale che più gente possibile possa conoscere l'attività fisica. Devo dire che dopo tanti anni io qui vedo Gela un grande cambiamento, gente che nel proprio DNA ha l'attività motoria e l'attività fisica dentro, quindi vedo correre gente a lungo mare, vedo fare fitness, vedo fare tante cose che non vedevo dieci anni fa. Peccato che non ci si accorga di queste cose e che nessuno prenda la palla in balzo per poter in qualche modo aiutare questa gente che vuole di per sé fare attività sportiva e rendergli le cose un po' più agevoli e un po' più comode. Noi della SNUP, assieme a tutti quelli che stiamo partecipando, generalmente siamo quelli che aderiamo un po' a tutte le iniziative. Devo fare un complimento a Salvatore Spinello, che in rappresentanza dell'Asia ha organizzato questa bella manifestazione nella quale certamente i cittadini in questo momento, diciamo coloro che frequentano i lidi della nostra città, usufruiranno gratuitamente di un servizio che altrettanto gratuitamente le associazioni sportive stanno dando. Per noi è un modo per portare all'esterno delle palestre le nostre attività e per farle conoscere, per i cittadini ingelesi sarà magari un modo di avvicinarsi allo sport. Noi ci proponiamo di attivare il Pony Games, sono dei giochi con i poni attraverso i quali appunto i bambini riescono ad avvicinarsi al mondo dell'equitazione. Cercheremo di coinvolgere anche gli adulti con dei premi e anche dei pacchetti promozionali per quanto riguarda l'equitazione. Speriamo che sarete molti. Siamo in conclusione, parliamo di teatro, appuntamento proprio col teatro, domani sera alle 21.30, all'antidoto di Macchitella, di cena la compagnia teatrale Cast in Non ti conosco più. Ricordiamo che il costo del biglietto è di 5 euro a coppia. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.